Ciao a tutti amici nevazzurri, buongiorno, sicuramente sarà un bel giorno, sicuramente starete facendo colazione e sicuramente sarà un'ottima colazione perché l'Inter anche ieri, anche ieri l'Inter ha vinto benissimo, 4-0 al solito spettacolo a San Siro, 20 partite vinte su 24 giocate in campionato, tre pareggi e una sconfitta contro il Sassuolo a San Siro, pareggio poi contro la Juventus a l'andata, contro il Genoa e contro il Bologna. L'Inter era chiamata a giocare una prova di autorità, una prova da grandissima squadra per dare continuità alle vittorie ottenute in tutto questo 2024, da quando è iniziato la vittoria col Verona, la vittoria col Monza e poi la Supercoppa con Lazio e Napoli, poi Fiorentina, Juventus, Roma e adesso anche in casa con la Salernitana. La cosa che ha impressionato di questa squadra è la facilità con cui ha gestito, dominato e aggredito la partita. L'Inter al terzo minuto poteva essere già in vantaggio 2-0, Turano sbaglia un gol sulla linea, prende il palo, Barella prende una traversa, insomma abbiamo veramente sparato verso la porta per tutta la partita. Finita solo 4-0 ma poteva essere usato molto più rotondo. La cosa che fa impressione prima di iniziare con le pagelle è che la Salernitana è vera, è l'ultima in classifica, è quella appena cambiata allenatore, è tutto quello che volete. Ovviamente c'è un avviso tra le due squadre, ma io non mi ricordo una partita in cui la squadra avversaria è stata in balia completa dell'altra senza mai superare la metà campo. La Salernitana non solo non ha tirato in porta, ha tirato solo la punizione di Candreva Alta, ma non ha mai superato la metà campo. È stato impressionante quello che l'Inter ha fatto contro la Salernitana, ma perché poi non è stata una partita isolata. Ormai è una continuità abbastanza clamorosa da parte dell'Inter, che adesso va a giocare martedì con l'Atletico, avversario ovviamente molto più tosto, molto più importante, molto più forte della Salernitana. Però l'Inter ci va con l'ennesima consapevolezza, attualmente ha 10 punti sulla seconda, 11 sulla terza, su Milano e Juventus ovviamente, con lo stesso numero di partite giocate. L'Inter deve recuperare con l'Atletico, Juventus e Milan devono giocare ancora le loro partite di campionato. L'Inter ha più 10 reale e più 11 reale su Juventus e Milan. Bel vantaggio. Comunque, partiamo con le pagelle. Credo che saranno delle pagelle un pochino banali, perché hanno giocato tutti alla grande, grandissima prova di squadra. Bisognerebbe dare un 9 all'Inter. Non c'è mai, non esiste la partita perfetta. La partita perfetta può essere una vittoria in una finale di Champions. Questa però è una partita, senza considerare il valore dell'avversario, che sfiora la perfezione. Cioè, se tu non fai mai uscire il tuo avversario dalla sua metà campo, mai, non le permetti di fare tre passaggi di fila, è quasi perfetto. Vinci 4-0. Perfezione manca, perché potevi segnare tutti i gol che potevi segnare, nel senso che le occasioni create, invece non lo hai fatto. Comunque, andiamo veloci con le pagelle, ma, ripeto, saranno pagelle molto banali. Sommer, SD, Sommer fa lo spettatore, esattamente come l'abbiamo fatto noi. Gioca qualche pallone col piede, ma proprio sui retropassaggi. Non si può dare voto a somma. Difesa titolare, è vero, non mancava Cerdi per infortuna. Ha giocato a De Vrij, prova assolutamente di autorità di De Vrij. Allora, iniziamo con Pavard. Pavard fa anche una rovesciata spettacolare, peccato che poi l'azione era fuori gioco, ma la palla scelta di poco sopra la traversa. Tantissime, faccio fatica anche, 7 a Pavard. 7 a De Vrij, in difesa non deve fare niente. In attacco gestisce, però, diciamo che inizia il gioco dell'Inter. Potrei dare di più, potrei dare di meno. Direi che più o meno il 7 è generale. A bastoni do qualcosa di più, perché oltre a difendere e impostare, poi è uno che si butta nello spazio, è uno che va a crossare. Quindi, 7 e mezzo a bastoni. Andiamo su Dumfries. Dumfries 8, perché, ripeto, siamo tutti sul 7 in su. 7 e mezzo, se hai fatto qualcosina in più. Capitano, scusami, ma non è una mancanza di rispetto, ma non ci sto. 7 e mezzo a bastoni, 8 a Dumfries. Dumfries gioca bene, innanzitutto, come tutti. Fa il gol del 3 a 0 e dà l'assist ad Arnautovic, anche se un po' deviato, del 4 a 0. Quindi, gol e assist, Dumfries 8. Varela c'è un nuovo Mkhitaryan. Varellino gioca molto bene. Secondo me ha la pecca di sbagliare quel gol da solo davanti alla porta, perché l'inserimento, 200 all'ora, è sua caratteristica, è perfetto. Sul lancio di bastoni, che è pazzesco. Lo stop di petto in corsa a sistemarsi la palla per il tiro di Varela è straperfetto. Davanti alla porta, però, manca un po' di lucidità, perché vuole spaccare il mondo, vuole distruggere la rete, vuole fare come Mark Lenders in Oli e Benji, che tira in porta e la rete si spacca una volta che la palla entra. Esagera, tira centrale, tira forte centrale, Ochoa, è lì, la mano sulla traversa. Quindi, mezzo punto in meno, perché secondo me è quel gol sbagliato, però, insomma, prova fantastica anche di Varela. Quindi, 7 e mezzo, col gol sarebbe stato 8 e mezzo. 7 e mezzo. Ciala, 7. Partita di ordinaria amministrazione per Ciala. Anche lui va vicino al gol, con quel tiro bellissimo, dal limite dell'aria, con la mezza girata, tenere giù la palla. Qui c'è il gioco, vicino al gol, non fa assist, non fa gol. Quindi, ottima prova, come al solito, ma oggi, ripeto, è come al fantacalcio. Hai mezzo punto in più se fai l'assist, un punto in più se fai l'assist, è un punto in più se fai il gol. Però, stiamo parlando veramente di prove eccellenti da parte di tutti. Mkhitaryan, faccio come Cialanoglu, 7, prova perfetta, senza assist e senza gol. Mi pare senza assist e senza gol, perché il gol del 1-0 di Thuram è l'assist di Carlos Augusto, il 2-0 di Lautaro l'assist di Carlos Augusto, 3-0 di Dumfries, l'assist è di Barella, mezzo deviato. Quindi, e poi il gol di Arnauto dice l'assist di Dumfries. Quindi sì, Mkhitaryan, 7, Carlos Augusto, 8, perché comunque Carlos Augusto, a parte che gioca molto bene sulla fascia di autorità, viene a prendersi la palla dietro, si sovrappone, va via in dribbling. Partita fantastica di Carlos Augusto e poi i primi due gol sono due assist suoi. C'è l'assist dalla sinistra che sblocca il risultato al gol di Thuram, quindi assist per Thuram, e poi c'è l'assist addirittura da fallo laterale con le mani per Lautaro, che poi fa un gol bellissimo col destro a giro. Quindi 8 a Carlos Augusto. Andiamo sugli attaccanti, Thuram 7,5, perché comunque il gol che apre la partita è suo, sarebbe stato 8,5 se non avesse fatto doppietta e non avesse sbagliato un gol sulla linea di porta. Insomma, capita di sbagliare il gol, quello però sarebbe meglio non sbagliarlo, ma può capitare, però sulla linea va a prendere il palo, calibra male il suo tapin, va a prendere il palo, fa rimbalza su Ochoa, comunque fa il gol che apre la partita, gioca comunque un ottimo match, con Lautaro si intende a meraviglia. Quindi 7,5 a Thuram, e do per par condicio anche 7,5 a Lautaro, che gioca benissimo, che fa un gol stupendo, perché il destro a giro è bellissimo, poi fa la sua solita ottima partita, ripeto, sono tutti dal 7 in su, sto facendo come al fantagangio ragazzi, e quindi poi ditemi voi nei commenti se siete d'accordo o no. 7,5 perché anche lui sbaglia un gol. Nel primo tempo, sul cross dalla destra, adesso non mi ricordo se il cross era di Pavard, non mi ricordo, comunque arriva con un cross orizzontale in area di rigore, lui è al limite dell'area piccola, tutto solo, prova il destro con la palla che gli arriva in corsa, cicca la palla col destro, si inclicca col sinistro, la palla le rimbalza in mezzo alle gambe, la perde, quindi è umano anche Lautaro, che intanto però arriva a 20 gol in campionato, stracapocannoniere, quindi 7,5 anche a Lautaro. Andiamo con i subentrati, anzi con i subentrati, allora Arnautovic, gol, quindi dà continuità alla sua prestazione, perché dopo l'assist di Roma arriva il gol oggi, tra l'altro un gol in tap-in da attaccante vero sul cross di Dumfries, quindi 7,5 per Arnautovic, do un 7 a Sanchez che inizia comunque l'azione del gol del 4-0, comunque quando entra si fa sentire, non credo sia giusto dare a nessuno di meno, tutti quelli che sono entrati hanno comunque giocato un po', secondo me sono dal 7 in su, Sanchez compreso, Aslani ha giocato un po' meno degli altri, per quello che ho detto poco fa, 7 anche a lui, anche se sarebbe più un SD Aslani, sarebbe più un SD però l'incoraggiamento di squadra essendo partecipe della partita, quindi 7 anche a lui, generoso, passatevelo dai, ok? Poi, Buchanan, Buchanan, secondo me ha giocato molto bene, è entrato bene, 7, un paio di dribbling, forse un rigore subito non fischiato, mi è piaciuto molto Buchanan, tra l'altro sulla fascia di sinistra, l'ha fatto giocare in Zaghi che non è la sua fascia, belli spunti, mi è piaciuto, ha i movimenti alla quadrada comunque, confermo quello che avevo detto, ha i movimenti alla quadrada. Vediamo, scusate se mi sono dimenticato qualcuno, mi pare forse Sanchez, Arnautovic, Aslani, Buchanan, e Klassen, su quello che dicevo di Aslani, diciamo Aslani e Klassen dovrebbero essere 2,6 e mezzo, che possono essere elevati a 7, perché comunque sono entrati e hanno fatto loro. Diciamo, allora, non è giusto dare a nessuno meno di 7, però chi ha giocato meno è giusto non paragonarlo agli altri, quindi facciamo Klassen e Aslani 6,5, che comunque hanno fatto il loro dovere e l'hanno fatto molto bene. In Zaghi 10, non ho mai dato 10, non do quasi mai voto all'allenatore, però questa squadra su 24 partite, 20 vittorie, 10 punti sulla seconda, in Champions si era qualificato al terzo-ultimo turno, al quarta giornata era già qualificato, la squadra gioca bene, segna tanti gol. Va bene. Va bene ragazzi, vi saluto, vi do appuntamento questo pomeriggio, intanto ditemi se siete d'accordo con queste pagelle, vi ricordo di schiacciare la campanella per avere la notifica dei video, vi ricordo che tra l'altro qua nei video di ieri c'è ancora la sintesi della telecronica della partita, se volete andarla a vedere, pollice in su se vi è piaciuto il video, ma mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale. Ciao a tutti, sempre e forse. Ciao a tutti, sempre e forse. E' un pollo!